Salve a tutti, vediamo di una puntata di questa serie Su, fai a fare dei set remake Siamo qua al momento in cui dobbiamo andare Corre, galpare Andare via, proprio immediateli proprio Proprio immediateli proprio Ma proprio, non subito, ancora prima E andiamo all'ascensore, scusa Vai Vai Si va sul tetto Stavolta non si fanno i piani a piedi Siamo sul tetto? Non mi vedi che sto ascensore fa fare Si Come Aia Aia Boss fight Boss fight Sembra impazzivi Sembra impazzivi E di solito come so Ok Allora Ehi Allora Magia Proviamo un'ignira Generale Globale Però critico La La piccata E E E E E E Gnotus Tra l'altro E E E E E E E E E Scusa E Vai Porca E E Poi Vai Gnotus Boom Oh Grazie Vai Nina Boom A posto Oh Si Ora Stai cercando di dare la mano a un cane? Hai cercato di dare la mano a un cane? Barrett Ma Ma sei un genio Sai Ma sei proprio un genio Vai Dai Si Ok Andiamo Andiamo si Dico Cosa c'è sta piuma? Perché sta piuma lo ha scosso? Qual è il problema di sta piuma? Perché sta piuma lo ha scosso? Ok Ok Eh Dove arriva al tetto E mo come ci arriva Di qua Mi sembra l'unica via Quindi Di là Aia Aia Questa cosa Secondo me si anima Io non Cercherò di non svegliarlo Però Niente Vabbè Cloud Cloud Pigliati in a moment Se hai sempre il suo mal di testa Se hai sempre il suo mal di testa Veramente Pigliati in a moment Cosa Cloud Io lo vedo anche lei Lo vedono tutti E allora Uh è vivo Ma va Ma va C'ha mal di testa La tratti bene la sua testa Si ok Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Cosa sta succedendo E così è l'hypothese provata corretta Cioè? Cioè? Ho solo spero di continuare a non sbagliare Cioè? Quindi cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che sono da solo? Bene Ora sono da solo E devo sbrigarmi E va bene, giusto Hai perfettamente ragione Però Qua la situazione è troppo Tira giù la leva Tira giù la leva Tira giù sta leva Ok Va bene Ok Eh, mmmm Io spero solo che non arrivino dei nemici Allora Magie Scusa Ener 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 Gira Vai A posto Mi sa che l'energia bastava Però vabbè Così giusto per Vai E che Vai Scusa Ah, bamba Vai Oh Oh Spero che i nemici Siano tarati Su un giocatore Su Fatto che sono da solo Perché Se ora mi capita Lo stesso numero di nemici Di quando avevamo un 4 Oh Cacchio Bene Allora Red Entra Fa parte della squadra Temporalmente E può affiancarla in battaglia Ma non come personaggio attivo Non essendo possibile Cambiare il suo equipaggiamento Red Non viene distratto Il menu principale Eh, ok Vai E che Dai Ah Ah Dai E che Ok Ok Eh Ti fai gli altri Non li sento Che vuol dire Era cerchiamo Allora io vengo da lì Dunì Chiaramente Dovrò andare D'altre parti Allora io vengo da lì Io da lì vengo Ecco E qua ha incocciato Allora Qua ci sta La roba Qua Magari Magari di qua Ecco Ecco Dai Si sale Ok Vediamo Ok Ok Ah 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 ok Quindi quando vedi Ora premi Triangolo Red Ma un'altra volta Non so L'esempio Per Ah ok Va bene Ok Vai Tira giù Si Bravissimo Bravo Red Red 13 Poi Ma C'entri niente Col tutto Calcio Tu Che tu Che sei Red 13 Eh aspetta Red Ora li andiamo a cercare Però Aspetta un attimo Che mi devo un attimo Allora Ecco C'ho C'ho un attimo Da fare cosa Allora qua c'è Le cose Delle Pozioni Scusi Scusi Allora Compra Oggetti Cosa c'è di Uh le megapozioni In offerta speciale Grazie Pure lettera In offerta speciale Grazie E poi E poi Poi ci chiederemo Come mai Allora Questo così Una gran pozione Me la prendo Perché l'ultima volta Le ho tipo Finite tutto Quasi Sono Mi son ridotto Tipo alla canna Del gas Per quanto riguarda Le pozioni Quindi Per forza Di cose Ok Drum C'entra niente Tabacco Unione con Barret Dai che Ah va bene E Bra Bra Bittis Badù E Vai Va bene Allora Magia Ignis Trivellis Immune Magia Fulgor Trivellis Barret Magia 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 C'è solo C'è solo E Antibarriera Un'altra volta I'm I'm Immune Porca Ah 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 Porca Di Ah Ok 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 Allora Ah Magia Fulgor Trivellis Barret Magia Antibarriera L'altro Trivellis L'altro Non c'ha Va bene E Dopo Un'altra volta Ah Mmm Oh Dove sei Trivellis Ma Porca Mite Allora Mai Rotto Ah Allora Cloud Magia Energia Su se stesso Ok A posto Crittura Di scatole Oh Alex Oh Oh Vai E Vai Affamma Vai Allora Cloud No No Non puoi usare I punti magia Non Non ne ho Bisogna Non ne ho Bisogna Non ne ho Bisogna Non ne ho Bisogna Vai Ah Vai Io Onestamente Non ne ho Vabbè Senti Senti Antibarriera Perché Non mi fa Vabbò E che Scatole Prima o poi Fini E Che Che Scatole Ma Magie Allora Barre Tanti barriera Perché non L'antibarriera che fa Ha un nuovo effetto di barriera Barriera di maniera scudo ATB2 E ce li ha sti due ATB Perché non me lo fa No vabbè Niente io non Non riesco a capire Che cosa Ma adesso Adesso è vulnerabile No Il Triveris Però è andato Però è andato il Triveris Eh Porca miseria Però Allora Barret Barret Magie No Cloud Magie E ne gira Su se stesso Ah 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 Oh Ok No Finiti un Corno Allora Magie Eh Energia Barret Poi Poi Magia Fulgor Ehehehehe Vulnerabile E mo son fatti Mo son cavolacci poi Mo son cavolacci poi Allora Eh Cloud Allora Magie No Cloud Non ce l'ho Va Ok Ok Oh Ehi Allora Cloud Eh Cloud No Magia Fulgoga Vai No No E ma Allora Barret Magie Non ce la rinascita Oggetti Eh Cosa di Fenice Cloud Ok Barret 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 Magie No Oggetti Eh Mega pozione Cloud Ah No Vai Che cacchio Ah Ok Ok Calma Ehm Cloud Magia Fulgora Vulnerabile Vai che è Vulnerabile Vabbè Barret Oggetti Cosa di Fenice Cloud Non ce la faccio Ok Poi Eh Vabbè Tenti Abilità Limite Colpo Ingraciato Sfreggiatore Vai Vai Ehm Nooo Vai Ehi Allora Ehm Qui a mughetto Allora Qualcuno mi ha curato Ma non so chi Ehi Ma ti vuoi Sposta No Devo prendermi i danni Per forza Ecco Allora Io non so che cacchio Allora Cloud Magie Fulgor Sfreggiatore No è niente Non riesco Allora Ehm Oggetti Cosa di Fenice Cloud Eh Vabbè Io Io devo Ma perché Mi prendo Oggetti Cosa di Fenice Barrett Ok Io non so che cosa devo fare Perché non Allora Barrett Per favore Sbrigati a fare La La Fattista Sbrigati Per favore Barrett Sbrigati E fatti Ok Barrett Allora Oggetti Mega Pozione Cloud E Poi Ok 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 A posto Mamma mia Tutto bene Un corno Oh E appunto Eh ho capito Ho capito Noi questi Non voglio colpire Fare nulla Aspetta Posso un attimo Scusa 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 Eh Barrett Arriviamo Giuro Eh Giuro E facciamo Quello Facciamo Tutto Quello Che vuoi Però Un tanto Devo Un attimo Ripigliarmi Ripigliamo Tutte cose Ok Recupero Completo Di tutte Le robe Spero Che non Spawnino Di nuovo Oggetti Porca miseria Ho poche cose Con la rifenice Ne ho una sola Qua non posso rischiare Ok Ok Va bene Ok Ho poca roba Ho poca Poca Una gran pozione Meglio Meglio Un pugno In bocca Va bene E Andiamo Andiamo Si corre Non spawnate Non spawnate Non spawnate Non spawnate Non spawnate Non spawnate Ok Sì Perché Mi comincia Andare Pianino Porte Si chiudono Ah beh Non è che avevamo Intenzione Tornando dietro Noi Eh Honestamente Non ho avuto Intenzione In 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 Non ce l'avevamo Qua Là c'è una sfera Una 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 Materia La materia Eh Vabbè Senti Triangolo Vai Vai Che Portunelli No Eccoli Bene Eccole Eccole Scendiamo subito Ma dovremmo salire Dobbiamo andare sul tetto Che cosa scendete voi Ok No Sono scese loro Vabbè Vai Ok Eh Eh Che hanno visto Ah Terminale Che Si Si Che Che come stai trovando il truppo che conoscevano il filmo e la tecnologie più avanzata in Midgar, se non il mondo del mondo dovresti sentirmi orgogliosi di vedere la prima volta anche tu avresti l'opportunità di partire in un experimento abbastanza ambitioso cosa? quando tutti i pezzi sono in posizione, avrò la porta per il terzo luogo magari puoi aiutarti con le preparazioni necessarie dato che sei già in una posizione perfetta per farlo guardo i dati sia in valutazione e instrumentale le preparazioni necessarie? cosa stai parlando? eh meglio pensaci andare avanti eh tanto ah certo? sono sicuro che ho visto una porta per una azzurra quindi... vuoi guardarla? eh sì dai andiamo a vedere penso che non... ok ok va bene ok e adesso andiamo con... va bene lì che c'è molta... ok 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 una panacea e... e... cosa troviamo? vabbè ci saranno gli amici? aspetta perma un attimo che qua c'è ancora... fermi un attimo vabbè vabbè aspetta tanto siediti qua tanto per ricaricare cose va a dire ok vabbè che ho capito allora compra oggetti qui c'è un cazzo di nulla eeeh vendi cosa posso vendere? accessori girocollo energizzante vabbè ma questo non me ne faccio nessuno se ne fa niente il girocollo energizzante quanto vedo potenza delle azioni recupero di mano anello magico gli effetti benefici forniti personalmente paradossalmente è più utile questo di tutto il resto girocollo energizzante lo vendiamo lo vendiamo lo vendiamo si fa vendiamo girocollo energizzante lo lasciamo stare compra oggetti almeno quelli in offerta e poi io andrei di mega pozioni a bestia anche se pure le core di fenice a sto punto le core di fenice non sarebbero una cattività dici core di fenice giusto per poter ma per modo poi di qualche modo di va bene allora qua non si va allora aspetta no aspetta ma prima di qua diceva aspetta parliamo eh 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 e cambiamo squadra va bene va bene va bene eh where where minchia i have to go dove straccavolo dovrei andare io minchia 3000 quill così io una cassa e uno sgabuzzino va bene eh cagnolino scusa eh io dovrei allora io come ci come 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 cosa allora penso sì dai ok non arrivano altre robe altre bestie vero sì red red sveglia non c'è non c'è controllo non c'è la possibilità di andare ah bene e quindi come sta cacchio vabbò e ho capito qua è tutta vabb senti vabbò cambiamo scusa perché dovremmo andare noi di là dai tira giù sta tira giù sta leva dai che cosa che cosa gli è preso guarda guarda ora possono anche andare ah dovremmo dirlo a cloud certo sia mai che ci sporchiamo noi le mani facciamo fare tutto a cloud vai vai ok facciamo il passo al terminal centrale sentite se ti senti da noi e andiamo a vedere il quadro e che tipo di ricerca è questo? il caratterismo che veniva dai stai Genova Hojo ha dedicato la parte della sua vita a sua studia ah eh te ne doveva fregare 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 ah eh 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 è lo psicopatico però intelligente la differenza tua Scusate un attimo Allora Allora qua lo ricordo Tricca, tricca, tricca Eeeh Eeeh E si E scusa Posso andare Oh grazie Allora Ma non pari? Non ti para Allora Cloud Magia Fulgoga Fulgora Distrussore lancia granate Eeeh Sono vulnerabili Sono vulnerabili Eh sono vulnerabili Barrett Barrett Magia Crio Sul lancia granate Eeeh Eeeh Aspetta che Questa porca Trota Ok Allora Magia Fulgora Distrussore Magia Fulgora Distrussore lancia granate Eeeh Eeeh Vulnerabile My friend Però 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 Io adesso Adesso C'è un problema Barrett Puoi prendere una Mega pozione Dalla cloud Grazie 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 Ok Ah Ok Allora Cloud Magia Fulgora Fulgora Eeeh 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 Allora Magia Fulgora Dissasore Dissasore Uuuuh Oh Fulgora Concentrato Gna 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 Eh Ok Barrett Mangia Crio Dissasore Ah Uuuuh Cacchio Barrett Vai Alla Barrett Una Una cortesia Barrett Vabbè Vabbè Forse Aia La glaciale Si è evoluta Bene Si è evoluta La materia Glaciale E qua Ah Ho capito La situazione Continuiamo Leva E adesso Si apre il ponte Giusto Allora Senti Magia Energia No Energia No Facciamo una cosa Oggetti Pozione Cloud Oggetti Pozione Cloud Scusate Eh Perché Oggetti Pozione Cloud Oggetti Gran Pozione Cloud Oggetti Gran Pozione Cloud Oggetti Gran Pozione Cloud Giusto Per essere Una condizione Decente Si si Ok Materia Temporale Scusa 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 Un attimo Equipaggiamento E materie Bar Ah Barrett Ci mancano Materie Ecco Perché Alla Segna Materia Allora Quali Sono rimaste Quali Sono rimaste Lì Podistica Premonitrice In Visione Rapida Eh Va bene E un C'ho Altro Non c'ho Altro Per te Dov'era Podistica Vabbè Non c'ho Altro Per Barrett Quindi Questo E Fatemi Mi fa un attimo Un giro Giusto Per capire Se ci sono Cosa A raccogliere No Allora Ok E uno Ho sbagliato Qualcosa Mi sa Mi sa Che ho sbagliato Qualcosa No Devo fa La zona 3 Devo Oprirla 3 Devo Oprire La 3 Devo Oprire La 3 Eh Trasfusione Completata Ok Ok Allora Quattro Ricontro Allora Eh Scusa Cagnolino Eh Ciò Da Fa Ok Ho fatto Un bel po' Per oggi Facciamo una cosa Continuiamo la prossima puntata Grazie Grazie Grazie